Periferia ovest di Roma, tra gli alberi e i padiglioni di un vecchio manicomio, medici e volontari tengono lontano dai pazienti il pensiero della malattia terminale. Nell'orto la salvia è rigogliosa, la bacheca è piena di biglietti di ringraziamento e le pareti ospitano i quadri dipinti nelle ore di laboratorio. Da ormai più di 32 anni ci occupiamo di pazienti cosiddetti brutalmente in fase terminale. Praticamente applicando in pieno le cosiddette cure palliative. Significa aiutarli a vivere bene fino all'ultimo minuto, non come spesso si dice, le cure palliative aiutano a morire bene. No, aiutano a vivere bene, che è una cosa ben diversa. Sorridere alla vita fino alla fine, anche se la malattia non lascerà scampo. La regola numero uno di questa Onlus da due mesi è anche il motto della famiglia di Silvana. 69 anni tra qualche giorno e la diagnosi di un tumore al quarto stadio arrivata all'improvviso. La figlia e la sorella ci aspettano in una delle 25 stanze della struttura che ormai è diventata la loro seconda casa. Quando gli arrivano certe notizie non è che siano dei migliori, quindi affrontare una notizia del genere non è semplice. Il ricovero qui che cosa ha significato per la famiglia? Diciamo un passo forse di tranquillità per l'addeggenza che devi finire di fare.